Amici della Virgin Cup, benvenuti allo Sports City dove per la seconda giornata di campionato si affrontano Yellow Sabarin e Sandro Erlando. Calcio d'angolo, lo stop, il tiro dalla distanza, attenzione a Parise, il tiro parata del portiere e poi Parise ribadisce in rete, 1 a 0 per lo Yellow Sabarin. Gira la sfera, adesso Giancarlo, Giancarlo va col destro, traversa piena, lotta con l'avversario, l'appoggio per Archiletti, Archiletti si ferma, si gira col mancino, ancora una traversa. Manovra adesso lo Yellow Sabarin con Carnevale, Carnevale prova il piattone e sorprende il portiere, raddoppio dello Yellow Sabarin col piazzato, Carnevale fa 2 a 0. Ancora Carnevale lotta con l'avversario, Carnevale porta la palla sul sinistro, ci prova col mancino, deviazione, un palo. Archiletti ha scambiato il compagno, palla ancora per lui, tenta a giro. Palla al centro per Caputo che si gira e mette la palla fuori. Carnevale salta l'avversario, Carnevale con il sinistro, 3 a 0, Yellow Sabarin, assoluto protagonista, Carnevale. Ancora manovra lo Yellow Sabarin, palla dentro a cercare Carnevale, Carnevale adesso sul destro, col destro, 4 a 0, Carnevale, la partita è sua. Gielo Sabarin in attacco, ancora Carnevale mette al centro per il compagno che fa la finta, il tiro di piattone, respinge il portiere. Gira la sfera per il compagno, attaccato, attenzione, postava per approfittarne Bozzetto che continua a lottare, Bozzetto conquista il pallone dentro l'area con la punta respinta sulla linea e poi Bozzetto segna il gol della bandiera per il Sandrirland, 4 a 1 il risultato. Termina lo Sport City, la partita, 4 a 1 il risultato a favore dello Yellow Sabarin sul Sandrirland in questa seconda giornata di Virgin Cup. Ci abbiamo provato in tutti i modi ma siamo scesi in campo male, non abbiamo tenuto le posizioni, ci mancavano anche un po' di uomini, speriamo che dalla prossima riusciamo a giocare un po' meglio. Abbiamo due dei giocatori nuovi, speriamo che col passato delle giornate riusciamo a giocare meglio. E' andato tutto bene, siamo un buon gruppo, siamo tutti amici e ci è andato bene. Sono contento dei tre gopi che ha fatto comoda la squadra per vincere la partita e speriamo di andare avanti così e continuare a vincere per vincere il tutto nello.